Persolinas è l'emergenza sotto controllo, ma i numeri sono dieci volte superiori alla prima ondata. E l'assessore alla sanità Mario Nieddu ha descrivere una situazione al limite del crash durante la presentazione stamattina del piano regionale di 40 giorni destinato ad affrontare la curva pandemica. Nieddu sfida chiunque, queste le sue parole, ad affermare che l'impennata di casi fosse prevedibile nella quantità con cui è esplosa nell'ultimo mese. Criticità che però il governatore di dimensione ha perlomeno nel dato isolano definito a rischio moderato. Guardiamo i numeri, non le parole, esorta l'esponente sardista in riferimento alle polemiche piovute gli addosso dopo l'affaire discoteche. Ma sono proprio i numeri a fare paura di contagi e ricoveri che obbligano, secondo Nieddu, il personale sanitario a un impegno massacrante. Nonostante questo, per l'assessore le altre patologie non sono state trascurate, aggiungendo però nei limiti del possibile. E per superare gli attuali steccati, ecco il piano modulare illustrato da Massimo Temussi, commissario straordinario dell'Ares. La procedura, step dopo step, prevede l'aumento dei posti letto, la decongestione del pronto soccorso, il miglioramento della medicina sul territorio. E proprio sui posti letti, Antonio Lorenzo Spano, direttore amministrativo della A.O.U. di Sassari, annuncia l'aumento di 256 unità nella teriaperia ordinaria, 30 nella subintensiva, 42 nell'intensiva. A Nieddu la conclusione, la battaglia si vince sui territori, non negli ospedali, con la prevenzione, le piattaforme su cui verranno recuperati tutti i dati dei pazienti, le nuove assunzioni e il tracciamento dei contatti su cui l'assessore, al contrario del resto d'Italia, ancora crede, sperando intanto che l'ultimo DPCM nel frattempo rallenti il picco dei contagi e inverta la curva epidemica.